Ciao da Dove al Sud! Oggi prepariamo le uova strapazzate con salsiccia con Daniele e Daniela! Buone! Un secondo veloce e squisito! E cominciamo a vedere gli ingredienti! Vai Daniela! Ci serviranno 150 grammi di salsiccia fresca di maiale, 3 uova, cipolla, pepe, olio extravergine d'oliva, sale, un cucchiaio di parmigiano grattugiato e poi c'è lei! Ed eccola qui la nostra mascotta, la pecorella di Dove al Sud, che vi ricorda di mettere mi piace a questo video e condividerlo! Queste doti sono per due persone, eventualmente potete cambiarle. Per iniziare, tagliare la salsiccia a pezzetti di circa 3 centimetri. Tagliare striscioline e un po' di cipolla, poi la quantità è in base ai vostri gusti. Mettere a scaldare in padella un filo d'olio extravergine d'oliva. Far soffriggere la cipolla. Friggere la salsiccia a fuoco dolce. La mettiamo in padella. E fate friggere la salsiccia su tutti i lati, quindi la girate. Guardate come le abbiamo posizionate, così cuociono anche sui bordi. In una ciotola, rompa tre uova. Ecco le tre uova! Aggiungere un piccolo di sale, poco perché la salsiccia è già salata. Il pepe. Il cucchiaio di parmigiano grattugiato. E sbatterle. Versare le uova nella padella con la salsiccia. E mescolare continuamente. Mescoliamo continuamente per far amalgamare il tutto. Guardate che è bello come prende forma. Ecco qui. E' pronto. E possiamo spegnere la fiamma. Prepariamo un contorno veloce che lega benissimo. Qualche pomodorino. Sono buonissimi. Un pittico di sale. Un filo d'olio di sale vergine d'oliva. E origano. Bello profumato l'origano. E sono pronte! Ecco le nostre uova strapazzate con salsiccia. Guardate che belle! E che profumo! E adesso la prova assaggio! Eh sì! Guardate che bel piatto! Ma morite! Oh! Non sono caduti i pomodori! Non sono caduti! Allora, salsiccia! Che bello eh! Con uova! Guardate! Questo piatto è semplice ma fantastico! Che bontà! Sei senza parole! No, non è davvero buono! Stai mangiando! No, è buonissimo! Poi senti anche con la cipolla nell'uovo strapazzato! È una favola! Concordi, Daniela? Sì, stavo proprio d'accordo! È impegnata... Ad assaporare! Buono! No, è proprio buono! E qui termina il nostro video! Ciao da Dora al Sud! Ciao da Daniele e Daniela! Grazie per il mi piace! E condivideteci! Ciao! Ciao!